Guido, io vorrei che tu e Lapo e Dio fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio. Sì che Fortunallo, d'altro tempo Rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, di stare insieme crescesse il disio. E Monna Vanna, e Monna Lagia poi, con quella che è sul numero delle trenta, con noi ponesse il buono incantatore, e cuivi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di loro fosse contenta, sì come i credo che saremmo noi.